Sono 76 centimetri Sono cresciuti un po' 76 centimetri sono diventati Aspettate No, adesso saranno 85 magari Li ho anche tagliati Madonna, che cosa fareste per farmi aprire la bocca? Sì, magari Certo che sono laureata Sono laureata triennale E sto facendo la magistrale ora Quanti tatuaggi hai? 5 Giuro che ti davo almeno 76 anni Me li porto bene Ciò che sembra un'acqua marina Grazie Da quando fai pole dance? In realtà pochissimo Non c'è un'acqua marina Sì, un'acqua marina Sì, un'acqua marina Dato Credo Non c'è un'acqua marina Di quanto fa